La complessa vicenda che sta coinvolgendo Fondazione CRT è arrivata a un nodo, se non di svolta, di sicuro centrale. Sette consiglieri, per la precisione sei consiglieri di indirizzo e un consigliere d'amministrazione, sono ora indagati dalla Procura di Torino per interferenze illecite sull'Assemblea. Diverse perquisizioni sono state effettuate per tutta la mattinata di ieri nell'abitazione e negli uffici dei consiglieri, tra Torino, Alessandria, Assi, Novara e Vercelli, ma non nella sede della Fondazione. Dalla Guardia di Finanza di Torino, nello specifico dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, su ordine del procuratore aggiunto Marco Gianoglio. L'inchiesta è stata aperta dopo l'esposto dell'ex segretario generale Andrea Varese per il presunto patto occulto ad essere sequestrati telefoni e computer alla ricerca di e-mail, messaggi e chiamate che provino il reato di cui sono stati accusati i consiglieri, ovvero illecita influenza sull'Assemblea, previsto dall'articolo 2636 del Codice Civile, che punisce chi con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in Assemblea, lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Le pene vanno dai sei mesi ai tre anni di carcere. Ricostruire il tutto diventa molto articolato, soprattutto in queste fasi iniziali dell'inchiesta. Per farlo è necessario partire da cosa siano questi cosiddetti patti occulti. I consiglieri avrebbero lavorato alle spalle per controllare la fondazione CRT, mettendo sul piatto documenti e accordi pensati per fare i propri interessi e non quelli della fondazione per cui lavorano. All'esposto del segretario generale Varese si aggiunge anche quello che il presidente Fabrizio Palenzona ha inviato al Ministero dell'Economia, cui compete il controllo sulle fondazioni bancarie e in corso ora una nuova puntata della storia di un braccio di ferro tra Palenzona e l'ex presidente Giovanni Quaglio, una nuova puntata dal finale aperto. Ora, dalla procura di Roma, si è passati poi a quella di Torino, dove tra il 28 e il 29 maggio è stato ascoltato dagli inquirenti il presidente a Interim, Maurizio Irrera, per poter ricostruire alcuni tasselli della storia. Il terremoto che ha scosso la serie di via 20 Settembre porta formalmente la data del 22 aprile con le dimissioni del presidente e del segretario. Palenzona era tornato a guidare la fondazione nell'aprile del 2023, dopo essere stato vicepresidente di Unicredit. Dopo aver ricevuto l'esposto, anche il Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti ora ha deciso di inviare i propri ispettori alla fondazione. Tutto questo proprio a pochi giorni dal voto per la nuova nomina di presidente che avverrà venerdì prossimo, dopo il rinvio di 15 giorni, concesso dal Ministero delle Finanze rispetto ai 30 dello statuto. L'indicazione unanime del Consiglio di indirizzo è il nome della giurista Anna Maria Poggi come nuova presidente, una situazione, come già detto, molto articolata, su cui di fatto rincombe sempre di più da vicino lo spettro del commissariamento. A confermarlo lo stesso Giorgetti, credo sia necessario approfondire in modo serio, c'è un precedente storico, riferisce il Ministro dell'Economia a Napoli, prima del commissariamento, sono arrivati gli ispettori. Non è direttamente una conseguenza, ma si tratta di un dato oggettivo. La domanda che ci si pone in queste ore nella sede di Via 20 Settembre è cosa succederà, quale sarà il finale di questa storia?